il 16 luglio va in scena una compagnia teatrale il cui nome per me uno scioglilingua magari me lo dicono loro diciamo noi mazza murei sarebbero dei piccoli fantasmini che bussavano sui muri mazza muro a seniglia al sapere non si discorre d'amore ma sotto a sta chiara di luna come se non discorre state davanti agli occhi se il mare che sberlucica appena appena mi tocchi una parola ansespiccica ferma sono commossa davvero sono commossa allora dopo questo momento di commozione pura ecco venite da senigallia questo l'abbiamo capito in senigallia portiamo una commediola atto unico scritto da me schierone luigi e speriamo di fare divertire i fanesi veramente più che una commediola sono soltanto degli sketch fatte da persone che sono seduti su una panchina d'altronde il titolo della panchina e si parlerà della zona del covid ci sarà anche della musica e avremo due canzoni anche almeno tre canzoni scritte da senigalliesi e musicate dal nostro andrea celidoni che è bravissimo chitarrista e quindi saremo presenti con cose nostre non ci bisogna neanche della siae perché siamo tutti noi ricordiamo allora il vostro appuntamento andrete in scena qua il 16 luglio qui all'arena bcc di fano e apriremo la rassegna in modo esemplare grazie a tutti